buongiorno cari lettori di edizioni caserta in onore della trentesima sagra degli gnocchi a settembre a botteghino siamo a casa del signor piscitelli perché qui è usanza che si riuniscono varie famiglie per consumare gli gnocchi in questi giorni buongiorno signora signora che stiamo facendo qui beh stiamo facendo due gnocchetti pochi pochi è una vecchia tradizione che da tanti anni facciamo tutti questi gnocchi per mangiare tutti in famiglia se la gente vuole venire a pranzare con noi siamo belli e di ospitarli sicuramente le persone sicuramente le persone potranno venire stasera domani e dopodomani a botteghino li ospitiamo perché anche lì ci saranno degli gnocchi ciao come ti chiami ciao viola ciao viola tu che fa qual è il tuo ruolo io li taglio così li preparo per le signore che poi devono procedere alla lavorazione ok ci fai vedere qualcosa signora voi cosa fate io l'incavo io sono una cara amica di famiglia che vengo aiutata la signora vengo da san felice a cancello però stasera tutti quanti veniamo qua qui continua la lavorazione buongiorno 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 signora come si chiama antima salve niente vengo cioè questo il trentesimo anno che faccio questi gnocchi aiuto un poco all'amicizia che mi piace veramente sono simpatici e niente facciamo questi gnocchi e invitiamo a tutti a mangiarli che sono buonissimi sono buonissimi vi posso garantire salve signora come vi chiamate voi rosa piscitelli grazie cosa state facendo da quanto tempo state lavorando qui le ore 8 per stasera per fare una un cenone insieme a tutte le colleghe le ragazze ok giovani e poi ci tengo tanto perché mio marito quando iniziato questa questa festa ci stava lui e io ricordo sempre le stesse cose perciò sto presente che bello ok grazie ciao viola volevo farti un'altra domanda e quanti gnocchi riuscite a fare allora dalle otto e mezza di stamattina sono le dodici e mezza circa in quattro ore in quasi un quintale complimenti complimenti grazie comunque a tutte queste persone soprattutto al proprietario di casa abbiamo il signor piscitelli salve buongiorno signor piscitelli ma lei è l'unico uomo qui in mezzo e come vede sì ok e come fa a sopportare a supportare tutte queste donne a sopportare non è proprio il termine a supportare quindi non è il termine esatto perché poi ci conosciamo da tanti anni e ci aiutiamo efficiente più che altro grazie grazie mille chi era la moglie del signor piscitelli ecco qui buongiorno signora signora maria quindi tutte queste signore sono vostri ospiti stasera ok quindi festeggerete qui tutti insieme ok perfetto mentre i nostri lettori noi li invitiamo questa sera a botteghino per degustare gli gnocchi che non saranno queste erano altri gnocchi questi sono solo per queste fantastiche famiglie qui abbiamo la signora maria salve signora maria voi siete la più grande del gruppo è vero più grandicella ma stamattina c'erano anche altre persone mi stavano dicendo per motivi familiari sono dovuto andare via ok quindi poi sono restati in pochi quindi stasera poi vi radunate tutti insieme grazie grazie mille noi ai nostri lettori li invitiamo direttamente a botteghino per la trentesima sagra degli occhi per settembre a botteghino ma Grazie.